Questa è una piaga che affligge al Veneto e agli ultimi anni. Questa è la piaga dell'Uromastica dei nomi. Per chi ha sempre dovuto essere internazionale quando si chiama Perugino, Vigolino, Berti, Termazzi, Bedin, Bedin, Marcon? Un'notte e poi ci ha fatto più Asciavoli. Un'notte e poi ci ha fatto più Atraiu. Un'notte e poi ci ha fatto più Asciavoli. 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 Un'notte e poi ci ha fatto più Asciavoli, Un'notte e poi ci ha fatto più Asciavoli. E' un'altra mia, ma non proprio Ma è che la mia vita, nel caso che è real Ma è la mia vita, non mi piace, non mi piace O una eliminazione, che non pensi che sia un po' E' un'altra mia sensazione E' un'altra mia, non mi piace 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 Sì, qui ho sempre conosco in radio, esame che s'aggredere, mi per rinco aiutarvi da quando mi arriva, con te la barriera della scuola, mi sapi di te o tre, mi sapi di te o tre. Sono il tuo tuo figlio, la terra sull'esplosione, buono il mondo e il tuo figlio, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.